La funivia caduta dalla fune tranciata alla catena dei controlli sono tanti punti da chiarire. A breve, nuovi nomi nel registro degli indagati, sale la rabbia dei parenti delle vittime. L'Italia verso la zona bianca senza coprifuoco e con riaperture anticipate è trovato l'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni sulle regole da applicare, rimane l'obbligo della mascherina e del distanziamento. Termina la settimana di Assemblea dei Vescovi Italiani dedicata al cammino sinodale, tra poco la conferenza stampa nella quale il Presidente della CEI, il Cardinal Bassetti, presenterà il documento conclusivo. Buongiorno, benvenuti a TG2000, la tragedia del Mottarone attesa a breve la richiesta della convalida degli arresti del proprietario, del direttore e del capo operativo della funivia. Il freno sarebbe stato manomesso consapevolmente per evitare disservizi. Intanto il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini riferisce alla Camera in una informativa sul tragico incidente del 23 maggio. Il servizio di Luigi Ferraiolo. Ci sono ancora misteri sul dramma del Mottarone. Il blocco consapevole dei freni di emergenza da parte del gestore ha impedito alla cabina di fermarsi, una volta spezzata la fune traente, ma ancora non è chiaro perché il cavo si sia tranciato. È quello il vero buco nero dell'inchiesta velocissima condotta dai carabinieri di Verbania, che in 48 ore avevano ormai la certezza che la funivia fosse stata manomessa, prima delle ammissioni dei tre fermati. Era, dico era perché è già concluso, finalizzato all'individuazione della seconda forchetta, come viene chiamata, insomma, questa famosa forchetta che già gira tanto su internet, l'altra forchetta, quella che si trova sulla cabina. Ma noi cerchiamo la seconda e che abbiamo già trovato. La rottura del cavo viene ritenuta praticamente impossibile dagli esperti, a meno che non ci sia un intervento esterno. È stata una scelta assolutamente consapevole, cioè non si è trattata di una omissione, diciamo così, occasionale o una dimenticanza. È stata una scelta precisa. Gli occhi dell'opinione pubblica sono comunque puntati soprattutto sul pomeriggio, quando cominceranno a lavorare i periti che analizzeranno il cavo. Questa mattina il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha annunciato la costituzione di una commissione d'inchiesta rispondendo in Parlamento e rinnovando il cordoglio dell'Italia. Il tragico incidente del 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa-Mottarone è una grande ferita per il paese. Desidero quindi esprimere nuovamente il profondo cordoglio del governo nei confronti dei familiari delle vittime. Arriva l'accordo tra il governo e le regioni sulla zona bianca rafforzata mantenendo le restrizioni da giallo ma con riaperture di tutte le attività. Sul fronte ai vaccini poi sono attese entro il fine mese 8 milioni e mezzo di dosi. Federico Plotti. A oltre 5 mesi dall'inizio della campagna vaccinale cominciano a vedersi evidenti i risultati dell'operazione sanitaria più grande mai messa in piedi nel nostro paese. Diminuzione dei contagi e numero di somministrazioni viaggiano di pari passo con il 36% della popolazione totale che ha ricevuto la prima dose e quasi il 18,5% che ha concluso il percorso il virus ha visto rallentare sensibilmente la sua circolazione ed è sempre meno pericoloso e letale. 3937 le infezioni da Covid-19 riscontrate nelle ultime 24 ore con un tasso di positività all'1,5%. In diminuzione anche la pressione sugli ospedali con i ricoveri in calo costante sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva dove attualmente restano intubate circa 1270 persone. Tra marzo e aprile erano oltre 3.000. Ieri i decessi sono stati 121. Intanto dall'Agenzia Italiana del Farmaco arrivano precisazioni sul vaccino di AstraZeneca. Nonostante i margini di incertezza sulla sua somministrazione agli under 60, dice l'AIFA, il siero dell'azienda anglo-svedese è sicuro e i rischi di trombosi restano più unici che rari anche dopo la seconda dose. Nel frattempo cresce la speranza per un'estate più libera e tranquilla, anche se l'attenzione deve restare altissima. A ricordarcelo il caso di Scordia, provincia di Catania, dove è stata istituita la zona rossa per un aumento preoccupante dei contagi. Ma se la tendenza al miglioramento dovesse essere confermata anche dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità di domani, da lunedì prossimo Friuli, Venezia Giulia, Molise e Sardegna potrebbero vedere già cadere di vieti e restrizioni e dire addio al coprifuoco. Poi tutte le altre regioni fino al 21 di giugno, quando l'Italia dovrebbe essere tutta in zona bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Biden, annuncia di aver chiesto all'intelligence americana di raccogliere e analizzare informazioni che ci possano portare a una conclusione definitiva sull'origine del Covid. Nei giorni scorsi il Wall Street Journal aveva parlato di un report della CIA circa l'ipotesi che il virus possa essere uscito dal laboratorio di Wuhan, ipotesi smentita immediatamente dalla Cina. Ora si attende solo il rapporto dell'intelligenza americana che dovrebbe essere consegnato a Biden tra 90 giorni. Il governo tenta il rush finale sul DL semplificazioni, atteso per fine mese in Consiglio dei Ministri. Questa mattina la cabina di regia con Draghi, sul tavolo dell'esecutivo molti altri temi, tra cui anche il nodo all'Italia. Augusto Cantelmi. Nuovo vertice a Palazzo Chigi per trovare un'intesa sul decreto semplificazioni prima dell'approdo nel Consiglio dei Ministri, forse già di domani. Resta da sciogliere il nodo sugli appalti con la spaccatura all'interno del governo. Per regolare vuol dire più morti sul lavoro, vuol dire meno diritti per il lavoro, vuol dire infiltrazioni criminali, vuol dire dequalificazione dell'impresa. Anche sul blocco dei licenziamenti aumentano le tensioni nella coalizione. Dal primo luglio le aziende possono licenziare. Nella versione definitiva del decreto legge non c'è più la proroga del blocco dei licenziamenti al 28 agosto, che terminerà quindi a fine giugno. Perché bisogna aiutare le imprese a non licenziare e in caso di licenziamenti i lavoratori a trovare subito una nuova occupazione. Intanto un taglio significativo del personale, flotta ridotta di oltre la metà, sarebbero questi i termini dell'accordo raggiunto tra le autorità italiane, Bruxelles su Alitalia, Ita. Per il ministro dello sviluppo economico Giorgetti si è fatto un passo in avanti, ma non è finita. E sul tema occupazione arriva una buona notizia con l'apertura dell'Apple Store nel centro di Roma, via del Corso a due passi dalla sede del governo. Si tratta del negozio più grande d'Europa in un palazzo storico e con più di 200 dipendenti. Poco fa l'inaugurazione. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato Dario Scannapieco, attuale vicepresidente della Banca Europea di Investimento, nuovo amministratore delegato della Cassa Depositi e Presiti, mentre ai vertici delle ferrovie dello Stato arrivano come amministratore delegato Luigi Ferraris e come presidente Nicoletta Giadrossi. L'indice di fiducia dei consumatori ritorna ai livelli pre-Covid, lo dice l'Istat. Nell'ultima rilevazione di maggio, un recupero completo rispetto alla caduta dovuta all'emergenza sanitaria, accelera il clima delle imprese rispetto alla tendenza positiva da dicembre 2020, raggiungendo il livello più elevato dal febbraio del 2018. Ultimo giorno di lavori per l'Assemblea Generale della CEI sul tema Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita per avviare un cammino sinodale. Oggi alle 13 il Cardinal Gualtiero Bassetti, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presenterà in conferenza stampa il comunicato finale dei lavori assembleari. Ma colleghiamoci con il nostro Nicola Ferrante, che ha seguito dal vivo questa settimana di lavori. Buongiorno Nicola. Buongiorno, quarta e ultima giornata, lo dicevi, della 74esima Assemblea della CEI. Molti vescovi in questi minuti stanno lasciando l'hotel che li ha ospitati questi lavori. Io vorrei portarvi però con le immagini a stamattina presto, quando è stata celebrata la messa conclusiva, durante la quale, durante l'Omelia, il Cardinal Bassetti è tornato a parlare del cammino sinodale. A proposito del Santo Popolo di Dio, in sintonia con Papa Francesco, ha ricordato che non è una categoria sociologica, bensì un luogo teologico parlare del Santo Popolo di Dio. Nella serata di ieri, poi completati gli adempimenti previsti, nominati i nuovi 12 presidenti di commissione, fra loro alcune conferme, come alla Commissione Cultura e Comunicazioni Sociali, ma anche alcuni nuovi ingressi, come alle migrazioni e ai problemi del lavoro. Rinnovato anche il Consiglio Affari Economici e tutti si sono poi riuniti stamattina nella messa conclusiva. Fra gli adempimenti è anche la ripartizione dei fondi per l'otto per mille. Lo scorso anno, lo ricordiamo, la Chiesa Italiana ha devoluto oltre 230 milioni di euro. Alle 13, nella sala, proprio qui al mio fianco, ci sarà la conferenza stampa del Presidente CEI, il Cardinale Gualtiro Bassetti, che illustrerà il comunicato finale, molte le attese e molte anche le testate presenti e sarà l'occasione per interpellarlo anche sui temi più di stringente attualità. E con questo concluso, linea allo studio. Parliamo adesso del caso del volo Ryanair dirottato a Minsk che comincia ad avere i suoi primi effetti politici dopo le promesse di sanzioni da parte dell'Unione Europea. Il Presidente Lukashenko, che respinge tutte le accuse, ha incaricato il governo di stillare un pacchetto di contromisure, compreso un embargo alle merci europee. Barbara Masulli. La condanna di Europa e Stati Uniti, la difesa di Lukashenko, l'annuncio di nuove manifestazioni da parte degli oppositori. Sono le reazioni al dirottamento del volo della Ryanair a Minsk, un dirottamento che sarebbe stato ordinato dalle autorità bielorusse con l'obiettivo di arrestare Roman Protasevich, blogger, dissidente e anima delle proteste popolari contro il regime dittatoriale dell'autoproclamato si presidente Lukashenko. Dall'America Biden ha chiesto un'indagine internazionale dell'Organizzazione dell'ONU, dell'aviazione civile e, assieme all'Unione Europea, sta valutando ulteriori misure punitive e restrittive e sanzioni economiche. Oltre al blocco dei voli da Eversominsk, Lukashenko dal canto suo ha rispinto ogni accusa di pirateria di Stato, sostenendo di aver ordinato l'atterraggio forzato del vilivolo per un falso allarme bomba e ha puntato il dito contro l'Occidente, responsabile di aver ingaggiato una moderna guerra ibrida contro il suo paese. Non è mancata la risposta all'Europa. Il governo bielorusso sta infatti stilando un pacchetto di contromisure in cui è previsto un embargo alle merce europee, perfino quella in transito. In favore del presidente è intervenuto il Cremlino, secondo cui non vi è alcun motivo per non credere alle spiegazioni fornite dalla Bielorussia. Domani è previsto un incontro fra Lukashenko e Putin. Intanto l'opposizione ha deciso di alzare il livello dello scontro e ha promesso nuove proteste. In Nigeria oltre 150 persone risultano disperse. Si teme siano annegate nel nord-ovest del paese dopo che un'imbarcazione carica di passeggeri di rete ad un mercato è affondata in un fiume. La capacità dell'imbarcazione non era adeguata. I 180 passeggeri che trasportava fanno sapere le autorità locali confermando che sono al momento soltanto 20 le persone recuperate vive, 4 invece i morti certi. Sciopero di tutto il trasporto pubblico nazionale per 24 ore martedì prossimo, il primo di giugno, lo annunciano unitariamente Filt CGL, Fit CISL, Will Transporti e altre sigle, sottolineando che alla base c'è il mancato rinnovo del contratto nazionale. La Federazione Italiana Scuole Materne lancia l'allarme esclusi gli istituti paritari dal decreto sostegni BIS. Fabio Bolzetta 50 milioni di euro per le scuole paritarie. Il decreto sostegni BIS varato dal governo Draghi riconosce gli sforzi delle scuole paritarie così come sollecitato dal tavolo della Gorà delle Parità che riunisce le principali rappresentanze del settore. Lo stanziamento per l'acquisto di beni e servizi in vista della ripartenza di settembre in sicurezza tuttavia esclude le scuole dell'infanzia paritarie come denuncia la FISM. Probabilmente immotivabile come scelta perché non si sostiene chi è rimasto sempre aperto, chi ha accolto i bambini in tempi durissimi in cui altri livelli scolastici non potevano accoglierli, con maestre impegnate sul campo, 40 mila volontari, 100 mila impegnati nel settore, 500 mila bambini che rappresentano un terzo dei bimbi che frequentano il sistema educativo nazionale integrato di educazione e istruzione che per legge dello Stato è una funzione pubblica. Condanna della federazione che rappresenta 6.700 scuole dell'infanzia e 2.300 servizi educativi in tutta Italia. Noi eravamo già in petizione per superare i costi che vengono imposti ai genitori che portano i bambini presso le scuole di infanzia paritarie. Però questo è davvero troppo, è inaccettabile e la federazione non potrà accettarlo. È morta Carla Fracci, la regina della danza italiana nata nel 1936 a Milano. Lo studio Tenaci, il debutto alla Scala nel 1955, il successo nei più grandi teatri del mondo. Eterna fanciulla danzante, la definì il poeta Eugenio Montale. Con questa notizia termina il nostro giornale. Adesso il meteo, come sempre, a seguire terza pagina. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.